Buon giovedì a tutti ragazze e ragazze, io sono Angela e voi siete sul mio canale tutto dal web Brave and the Beautiful, Coran scopre le bugie di sua moglie, disperato tenta di togliersi la vita Eccoci ritornati con le anticipazioni della sop opera Brave and the Beautiful So che vi piacciono tantissime e quindi vado alla ricerca di qualche spoiler per voi Nelle prossime puntate della sop vedremo Coran scoprire tutta la verità Così le bugie di sua moglie Caide verranno finalmente a galla Nel dettaglio sarà la stessa complice Julia a raccontargli tutta la verità Succederà tutto quando Caide scoprendo di essere veramente incinta non vuole più il figlio di Julia Così darà dei soldi alla giovane donna ma lei non accetterà visto che i patti erano altri E lei ha già dato alla luce il piccolo Muzaffer Julia nel dettaglio si vendicherà di Caide, andrà da suo marito Coran e gli mostrerà una chiavetta USB Dove saranno contenenti dei filmati che mostreranno chiaramente al figlio di Tassin Che sua moglie non è nient'altro che una bugiarta Caide infatti ha sempre indossato dei pancioni finti per riscenare la gravidanza E di conseguenza prendere in giro tutti Inutile dirvi che Coran passerà dei giorni terribili Immediatamente chiederà il divorzio Si confiderà con sua sorella E arriverà a credere che Caide l'abbia addirittura tradita con Bulent E non crederà nemmeno quando sua moglie li confiderà di essere veramente incinta di lui Ma il colpo di scena arriverà quando tutte queste menzogne verranno scoperte da Tassin Comunicate dalla sua ex fidanzata Miri Ban L'uomo infatti farà vergognare suo figlio Coran Urlandogli contro davanti a tutti i dipendenti dell'azienda Gli preciserà di essere uno stupido per non essersi accorto delle bugie della moglie E di aver messo in imbarazzo tutta la sua famiglia Coran così disperato berrà più del dovuto e penserà di compiere un gesto estremo Scriverà una lettera alla persona che crede l'abbia veramente amato Sua sorella Suan Ingerirà così tantissime pasticche per togliersi la vita Per fortuna sua sorella Suan leggerà in tempo la lettera Capisce tutto e si precipita da Coran salvandolo Così proprio grazie a Suan Coran verrà portato immediatamente in ospedale Sarà sottoposto a una lavanda gastrica E l'uomo vi comunico sopravviverà In ospedale però poi saputa la notizia si precipiterà Caide e sua moglie Per sapere come sta il marito Ma la donna verrà sbattuta fuori immediatamente da Suan Ovviamente la sorella di Coran Infatti Suan la schiaffeggerà davanti a tutti Vomitandogli addosso il suo disprezzo per tutto quello che ha fatto a suo fratello Ma soprattutto per averlo appreso in giro per mesi interi Questo e tanto altro ragazzi Nelle prossime puntate di Brave and the Beautiful Voi continuate a seguirmi se vi va Attivate la campanella E iscrivetevi al mio canale Così siete sicuri di non perdervi questo Ma nessun altro prossimo video Augurandovi una buona giornata Io vi saluto da Angela Da tutto dal guardo Ciao 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 Ciao